Stop War, Not People è uno slogan molto molto semplice, neanche uno slogan è una cosa da imparare a memoria nel significato più ancora che nelle parole perché non ci possiamo fare niente arriveranno comunque arriveranno se chiudiamo Mare Nostrum come è stato fatto arriveranno se Triton non arriverà vicino alle loro coste arriveranno anche se non ci sarà nessuno a salvarli in mezzo al mare arriveranno perché saltano da una casa in fianco e quando brucia il palazzo per forza di cose ci si punta di sotto si punta di sotto se sotto c'è il materasso se c'è il telo dei Vigili del Fuoco ma ti punti di sotto, saldi dalla finestra anche se non c'è nessuno che ti salva saldi dalla finestra perché non c'è una minestra in alternativa